Liberi sulla carta al Selsipario sulla tredicesima edizione che si terrà in città al Polo di Santa Lucia dal 15 al 18 settembre. Sarà una grande festa per l'editoria indipendente e per tutti gli appassionati lettori e curiosi del reatino, ma più in generale di tutto il centro Italia. Soddisfazione da tutto il comitato organizzatore del festival e in particolare dal direttore artistico Fabrizio Moscato. Siamo molto orgogliosi di tornare dopo una lunga pausa perché di fatto quella del 2019 era stata l'ultima edizione normale, l'ultima con la presenza degli editori e torniamo in un contesto anche economico molto diverso. Moltissime delle case editrici che sono state con noi per anni nel frattempo hanno chiuso di fronte alla crisi della pandemia, altre nuove si affacceranno quest'anno per la prima volta alla nostra fiera. Noi speriamo di dare nuovamente impulso al settore dell'editoria indipendente e dare ancora una volta un segnale di libero accesso agli spazi della cultura che per noi è molto importante. Il tema della tredicesima edizione è qualcosa rimane, l'idea è quella di ritrovare le storie rimaste in sospeso, quelle non ancora raccontate e che perché no potrebbero svelarsi proprio a Rieti, proprio a Liberi sulla Carta. Per l'edizione numero 13 arriveranno in città tantissimi ospiti pronti ad animare le giornate e le serate reatine con un'offerta culturale di altissima caratura. Da Stefano Fresi a Anna Foglietta, da Paolo Calabresi a Paolo Rossi e non solo, sarà una vera e propria festa dedicata alla cultura.